Controlli nel fine settimana, chiusure e sanzioni per i locali, multe anche ai cittadini. Le marche tornano in zona arancione, chiudono i ristoranti, vietati gli spostamenti tra comuni. Screening nelle scuole, nuovo giro di tamponi al via dal 4 marzo. Lo sport del weekend pareggiano Vispesaro e Alma Juventus Fano. Italservice vince e vola in classifica. Una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV, canale 633 del digitale Terrestre. Bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale Rossini News. Subito in apertura parliamo del bilancio emerso dai controlli effettuati nel fine settimana dalle Forze dell'Ordine per il rispetto delle misure anti-Covid. Diverse sono state le sanzioni rivolte sia ai pubblici esercizi che ai cittadini, per non aver rispettato il divieto di spostamento dalla regione di residenza e per alcuni importanti casi di assembramento. Sentiamo tutti i dettagli in questo primo servizio. Locali sanzionati e chiusi, segnalate feste private e assembramenti non curanti delle normative anti-Covid, stroncata sul nascere una rissa organizzata via chat da diversi minorenni. I controlli serrati del fine settimana eseguiti dalle Forze dell'Ordine hanno permesso di rilevare diverse situazioni irregolari, sia in ambienti pubblici che privati, a cui sono seguite multe e non solo. Nella serata di sabato i carabinieri sono intervenuti in via degli Olmi. La musica alta dopo il limite orario del coprifuoco ha permesso ad alcuni residenti e cittadini della zona di segnalare all'assembramento che si stava svolgendo all'interno di un garage, nel quale erano presenti circa 15 persone, tutte tra i 22 e i 24 anni, non curanti delle normative anti-Covid. Tutti i presenti sono stati multati. Tra loro è stato identificato un ragazzo in possesso di due grammi di hashish e un altro che in passato non aveva fornito le generalità alle Forze dell'Ordine. Le sanzioni sono scattate non soltanto a Pesaro, ma anche a Gabice. La vicinanza con la Romagna e la violazione dello spostamento tra regioni diverse sono costate alcune centinaia di euro a sei residenti di Cattolica, i quali avevano deciso di fare aperitivo nel comune a nord della provincia pesarese. I carabinieri di Gabice hanno agito su diverse situazioni di apericena oltre gli orari consentiti. Quindi in questo momento è chiaro che ci vuole la massima attenzione. Dobbiamo ricordarci che vige questo divieto di sconfinamento fra le regioni, quindi è ovvio che in questi apericena sono stati scoperti dei ragazzi non di Gabice, addirittura alcuni di Cattolica, quindi nell'altra regione, che ahimè non hanno assorbato le regole, e quindi sono trovati ad essere multati. Sono situazioni che dispiacciono dal punto di vista oggettivo, però è chiaro che siamo in una situazione di grande emergenza, considerato che da oggi appunto siamo di nuovo in fascia arancione, quindi quello che dico sempre ai miei cittadini è di avere ancora molta pazienza, ancora tanta pazienza, perché siamo, come mi capita spesso di dire, siamo all'ultimo miglio. Anche a Pesaro diverse sono state le segnalazioni di irregolarità riscontrate per il verificarsi di assembramenti dentro e fuori dai locali. Nello specifico è stata elevata un'importante sanzione e imposta la chiusura per cinque giorni ad un ristorante di sushi situato in via Ponchielli, nel quale alcune norme, tra cui il corretto distanziamento e il numero massimo di ospiti consentito per ogni tavolata, non sarebbero state fatte rispettare. Sanzioni anche per alcuni locali del lungomare, per i quali però non è scattata la chiusura. Inoltre, in questo weekend, il lavoro dei carabinieri ha avuto un altro osservato speciale. Si tratta della zona del campus, nella quale sono stati effettuati alcuni controlli volti a stroncare sul nascere risse e incontri violenti organizzati via chat da compagnie e gruppi di ragazzi minorenni. Scene che sembrano ricalcare gli episodi che si sono verificati alcune settimane fa in altre grandi città, come per esempio Roma. Le indagini sono tuttora in corso e il grado di allerta delle forze dell'ordine rimane comunque alto. E a partire da oggi le marche tornano ufficialmente in zona arancione. Diverse quindi le misure e le restrizioni da seguire che sentiamo in questo prossimo servizio. Dopo alcune settimane di inquadramento nella fascia di rischio minore, a partire da oggi le marche sono ufficialmente tornate in zona arancione, con la conseguente riattivazione delle restrizioni e delle regole in vigore previste per tutta la regione. Oltre alle scuole superiori per cui è stata predisposta la misura della didattica a distanza fino al 5 marzo, con l'ordinanza firmata dal governatore Francesco Acquaroli, tornano a fermarsi anche bar e ristoranti. Per le attività legate al mondo della ristorazione, torna attivo dunque il divetto di poter ospitare clienti all'interno dei propri locali, mentre saranno garantiti i servizi di asporto e di consegna a domicilio. A gennaio abbiamo lavorato 9 giorni, a febbraio abbiamo lavorato 28 giorni, solo pranzo. Adesso marzo non si capisce, è un anno che siamo praticamente sotto questa azione pandemica. Qui il problema reale è che anche l'asporto, siamo in una piccola cittadina, non è che riesci a fare chissà che fatturato, quindi non riesci nemmeno a volte a pagare la bolletta. Per quello che riguarda la zona arancione, adesso non si capisce nemmeno fino a quanto durerà, quindi è tutto un'incognita. Sai, gestire un'attività come quella della ristorazione, accendi e spegni dall'oggi al domani diventa difficile, un minimo di programmazione almeno ce la dovrebbero dare. Anche se riesci a fare il pranzo, un buon pranzo, diciamo che fai il 35-40% del fatturato, e quello potrebbe servire per coprire le spese e non indebitarsi ulteriormente, perché ripeto, è un anno. Qui abbiamo preso tutti i soldi, ci siamo indebitati, siamo andati avanti, ci hanno garantito che potevamo stare aperti, ci hanno chiuso, per salvare Natale ci hanno chiuso, adesso per salvare Pasqua, se ci chiudono un'altra volta, insomma, non so, cosa dobbiamo fare. Ad abbassare le salacinesche saranno anche le attività inserite all'interno dei centri commerciali, eccezione fatta per edicole, farmacie, tabaccai, librerie, alimentari e fiorai. Chiusi anche i musei, mentre rimarranno aperti i negozi al dettaglio, i parrucchieri, i centri estetici e i mercati, anche quelli non alimentari. Nessun cambiamento e dunque nessuna attuale riapertura per impianti sciistici, piscine e palestre. Sul fronte spostamenti saranno consentiti quelli all'interno del proprio comune, mentre sarà vetato spostarsi sia dal proprio comune di residenza che da una regione all'altra, salvo per motivi di lavoro, studio, salute o necessità. Piccola deroga per i comuni con 5.000 abitanti, nei quali saranno consentiti spostamenti per una distanza non superiore ai 30 chilometri, ma non verso i capoluoghi di provincia. Sarà possibile effettuare visite a parenti e amici una sola volta al giorno, soltanto all'interno del proprio comune e nel limite di due persone, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Ancora attivo anche il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. E proprio nel primo giorno di rientro in zona arancione, l'ordinanza regionale sul ritorno alla didattica a distanza per le scuole superiori è stata impugnata al Tar delle Marche. A dare notizie è stato il governatore Francesco Acquaroli attraverso il suo profilo Facebook. Il Presidente ha sottolineato l'auspicio che il Tribunale amministrativo regionale si esprima quanto prima per fare chiarezza sull'impugnazione dell'atto. L'ordinanza, proseguito lo stesso Acquaroli, è stata adottata a tutela della salute pubblica, riferendosi all'aumento dei contagi per le fasce d'età interessate dal provvedimento. E apriamo ora la consueta pagina degli aggiornamenti Covid sul territorio regionale. è in calo, come ogni lunedì, il numero dei tamponi testati. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha infatti comunicato che nelle ultime 24 ore ne sono stati testati 3.020. 1.817 nel percorso nuove diagnosi, di cui 189 nello screening con percorso antigenico e 1.203 nel percorso guariti, con un rapporto positivi testati pari al 24,5%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 446, con più della metà dei casi segnalata nella provincia anconetana. Sette, invece, quelli registrati nella provincia di Pesaro e Urbino. Nella serata di ieri, il Servizio Sanità della Regione ha inoltre notificato sette nuovi decessi legati al Covid. Tra questi, anche un 79enne che era residente a Gabicce Mare. E il Comune di Pesaro ha confermato lo svolgimento di un nuovo turno di screening rivolto alle scuole a partire dal prossimo giovedì. I tamponi saranno destinati alle medie, alle superiori, ma anche ai docenti e al personale delle scuole primarie, dei nidi e delle scuole di infanzia. Sentiamo i dettagli in questo servizio. L'ordinanza regionale, che ha sancito il ritorno alla didattica a distanza per gli istituti superiori delle Marche, non ha fermato l'organizzazione del secondo giro di screening voluto dal Comune di Pesaro. Si partirà giovedì 4 marzo con lo svolgimento dei test per le scuole medie della città, che saranno effettuati direttamente all'interno dei plessi anche nella mattinata di venerdì. Giovedì pomeriggio, invece, l'iniziativa si sposterà al campus e si allargerà ai docenti, al personale della scuola primaria, dei nidi e della scuola dell'infanzia. Sempre al campus, nel pomeriggio di venerdì, potranno invece sottoporsi al tampone studenti, professori e personale delle superiori. Non è possibile che ancora una volta la scuola sia la prima a richiudere, alla prima difficoltà. Ci sono delle zone dove questa cosa è assolutamente condivisibile e comprensibile, penso ai dati di Ancona, però è una tendenza generale che sta di nuovo avvenendo e senza uno screening in periodico degli studenti noi non avremo scuola sicura. L'abbiamo dimostrato, l'abbiamo chiesto alla Regione da mesi, se si fosse fatto lo screening nei mesi successivi forse le cose sarebbero migliori, non lo possiamo sapere, ma di certo è una cosa che serve. Quindi noi vogliamo rilanciarla di nuovo. Una grande risposta, grazie a Laila, alla Croce Rossa, a tutti coloro che collaborano, che è la dimostrazione che si può fare, che se si vuole il personale si trova, che la Regione Marche dovrebbe farlo in tutta la Regione periodicamente e che io credo anche l'Italia dovrebbe organizzarci diversamente, perché se si vuole garantire la scuola in presenza e finire l'anno in maniera dignitosa bisogna fare qualcosa, se non si fa nulla non si controllano i ragazzi e poi la prima difficoltà la scuola viene chiusa. Le giornate saranno quelle del 4 e del 5 di marzo, noi faremo uno screening completo sia agli studenti che il personale docente e non docente per le scuole medie. Andremo direttamente all'interno degli istituti comprensivi, quindi i ragazzi non si dovranno spostare e sarà fatto direttamente in orario scolastico. Mentre per quel che riguarda il personale docente e non docente, educatori e insegnanti, sia dei nidi, scuole dell'infanzia e scuole elementari, la giornata sarà quella del 4 di marzo il pomeriggio al campus scolastico. Mentre nel pomeriggio del 5 marzo daremo la possibilità a studenti, personale ata e docente degli istituti superiori. Questo ci è stato richiesto dagli stessi studenti comunque di garantire la possibilità di permettere loro comunque di effettuare il tampone in orario non scolastico, perché al mattino i ragazzi sono a scuola. È un'operazione nella quale ci credo, è un'operazione di squadra che abbiamo costituito già oltre un mese fa, una squadra consolidata che ha voglia di mettersi a disposizione per il bene della propria collettività. Quello che noi stiamo facendo come Comune di Pesaro è quello di permettere a questi ragazzi di tornare a scuola più facilmente e in più breve tempo possibile. Quindi è un appello veramente che cerco di rivolgere alla Regione, al nostro governo. Facciamo il possibile affinché questi ragazzi possano tornare a scuola. In questo momento storico e sociale è l'unica possibilità che ci è dato di fare ed è quella dello screening. Noi attraverso questa forma di prevenzione riusciamo perlomeno a garantire che alcune classi possano tornare in presenza, che alcune scuole possono tornare in presenza. Dove ci sono i focolai ovviamente si prendono provvedimenti sanitari diversi, ma noi ad esempio in questo frangente la città di Pesaro avrebbe potuto continuare a fare lezione. Si è conclusa ieri domenica 28 febbraio, giorno ufficiale del non compleanno di Rossini ed è stata un successo. La settimana rossiniana in versione digitale è stata molto amata dal pubblico, registrando 100.000 visualizzazioni totali. Diverse le iniziative trasmesse anche dalla nostra emittente Rossini TV per promuovere gli appuntamenti del calendario rossiniano iniziato lo scorso 21 febbraio. Ed è risultato negativo al covid dopo alcune settimane di positività al virus, il vescovo di Fano, Monsignor Armando Trasarti, che proprio questa sera guiderà il secondo quaresimale nella Basilica di San Paterniano. Anche se ancora in convalescenza, infatti, il vescovo desiderava fortemente tornare a svolgere la sua attività pastorale. E di fronte al peggiorare della situazione sanitaria in regione, il gruppo assemblare del Partito Democratico ha chiesto ufficialmente al presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, Dino Latini, la convocazione di un consiglio straordinario per discutere le azioni più efficaci e volte a frenare i contagi, trovando soluzioni condivise per tutelare la sicurezza dei cittadini. E continuano gli appuntamenti con l'osservatorio regionale sulla specializzazione intelligente avviato dalla regione Marche lo scorso 1 febbraio. Lo scorso venerdì, presso il castello Malleus di Recanati, si è svolto il tavolo tematico dedicato all'ambito prodotti e servizi per la cultura e l'educazione, che ha coinvolto imprese innovative, start-up, ricercatori ed esperti di settore, con l'obiettivo di definire insieme le principali sfide di innovazione su cui concentrare le risorse del prossimo periodo di programmazione. Ce ne parla in questa intervista il vicepresidente della regione Marche, Mirko Carloni. Siamo al terzo tema della nostra specializzazione intelligente, che è quella che riguarda l'educazione e la cultura. Un tema fondamentale e oggi, insieme agli operatori, agli industriali che hanno deciso di partecipare insieme a noi a questo tour, definiremo quali sono le aree tematiche, le aree industriali su cui è opportuno ed è utile fare trasferimento tecnologico e sostenerli economicamente per migliorare la strategia digitale, per migliorare la strategia all'innovazione e soprattutto per tradurre quella rappresentanza industriale con maggiore competitività nel mercato. Quindi il primo di un'area tematica diversa dal solito, ma abbiamo scelto anche il posto giusto. Questo è un luogo particolare costruito con un'antica sapienza e un'antica geometria che vede proprio qua l'incontro sull'innovazione. Quindi paradossalmente sembrano due cose in contrasto, ma in realtà sono molto unite perché se noi sapremo coniugare la sapienza antica con l'innovazione, con la tecnologia, riusciremo ad essere molto più competitivi come territorio perché il nostro è un territorio con un'antica sapienza e con grandi capacità artigianali, manageriali, come vediamo in questo posto dove dal nulla è stato costruito un luogo che porta avanti una tradizione amanuense antichissima ed è stato costruito esattamente come erano costruiti gli antichi scrittori, tipo quello di Fontavellana e altri che hanno una cultura millenaria. E qua si fanno cose straordinarie con le mani, utilizzando una ritualità antica, ma anche con il supporto della tecnologia, dell'informatica, della scansione digitale, della stampa digitale. Quindi unire queste due cose è davvero la ricetta più dirompente che le marche possono mettere in campo. Pertanto dobbiamo soltanto ascoltare le imprese, capire che cosa hanno bisogno per essere più competitivi anche nell'area cultura ed educazione e la specializzazione intelligente. Abbiamo deciso di avere un'area di interesse anche per questo tema perché riteniamo che sulla cultura fare specializzazione intelligente, cercare di innovare attraverso un trasferimento di tecnologia potrà essere ancora più utile per le imprese dei prossimi anni e quindi cercheremo di inserirle all'interno dei temi finanziabili per il prossimo apporto. L'infrastruttura sicuramente è fondamentale perché come le strade per l'automotive, si vendono le auto ma se non ci sono le autostrade non sarebbe utile. In questo caso qui si costruisce la cultura, qui si costruisce l'arte, si costruisce l'educazione e l'applicazione delle tecnologie e della digitalità è solo uno strumento fondamentale. Tuttavia dobbiamo anche saper introdurlo, quindi non è così semplice perché dobbiamo esattamente calare la scelta laddove c'è la domanda, altrimenti si rischia di avere un mismatch, tra la richiesta e l'offerta. Quindi in questo momento è fondamentale ascoltare le imprese, capire da loro cosa gli serve, come gli serve e fare in modo che questi soldi che arriveranno dall'Europa vadano davvero laddove possono imprimere competitività per le imprese. E come ogni lunedì apriamo la pagina sportiva del nostro telegiornale per raccontarvi i risultati e i match di questo fine settimana. Pareggiano Vispesaro e Alma Juventus-Fano, mentre l'Ital Service colleziona un'altra importante vittoria che le permette di salire in cima alla classifica. Ferma invece la Carpegna Prosciutto Basket. Nessuna vittoria e nessuna sconfitta. Le performance di Vispesaro e Alma Juventus-Fano nei match del fine settimana hanno avuto lo stesso finale. Entrambe le partite sono terminate con un pareggio che ha regalato alle due squadre un nuovo punto in classifica. Partendo proprio dai biancorossi, in trasferta a Gubbio sabato pomeriggio, il risultato finale dell'incontro è stato di 1-1, grazie alla rete di Pannitteri. Abbiamo avuto un'ottima reazione, il primo tempo è stata una partita equilibrata, il secondo tempo abbiamo spinto, abbiamo cercato di far nostra la partita e qui c'è da fare i complimenti ai ragazzi perché alla fine hanno dato tutto quello che avevano dentro. Abbiamo raggiunto un risultato positivo, la squadra è viva. Sono contento per Pannitteri che è un ragazzo che si è fatto trovare pronto nonostante l'avessi utilizzato poco o niente, questa forse è anche sicuramente una mia colpa, però sono contento perché si è dimostrato un giocatore importante di cui avremo bisogno da qui alla fine. Il gruppo è formato da 20 ragazzi che stanno lavorando bene e chiunque entra fa la sua parte e questa è una cosa molto importante su una base su quale ripartire. Il rammarico è che anche oggi stiamo commentando un pareggio dove c'era due rigori incredibilmente, non parlo tanto del secondo su Di Paola ma il primo su Germinale è un rigore nettissimo che per noi ci poteva l'infa vitale, puntualmente siamo qui a recriminare con decisioni sempre al nostro svantaggio e sinceramente bisogna essere più attenti, più attenti perché noi lavoriamo un'intera settimana, prepariamo un'intera settimana, per noi inizia a essere, come avevo detto io, anche in settimana vita o morte e per noi quel calcio di rigore era vitale oggi. 1-1 quindi il punteggio finale anche dell'incontro tra il Fano e il Ravenna. Una partita dai due volti dove se alla fine del primo tempo facciamo il secondo gol probabilmente prende un indirizzo diverso e invece nel secondo tempo abbiamo rischiato noi di addirittura perderla e dobbiamo ringraziare Viscò. Abbiamo avuto dieci minuti di svantamento, purtroppo non devono succedere, è capitato e dobbiamo lavorare su queste cose qua. Storia diversa per il calcio a 5 per l'Ital Service che continua a vincere. Nell'ultimo match giocato contro il Catania, De Oliveira, Cuzzolino e Borruto hanno firmato il 3-0 che ha regalato ai Biancorossi il nono successo consecutivo nel girone di ritorno e il primato in classifica con un punto in più rispetto all'Acqua e Sapone. Per il basket ancora ferma la Carpegna Prosciutto Pesaro. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 7 marzo contro Cremona. Gli allenamenti della squadra proseguono senza coach Repeja, ancora positivo al Covid-19. E parliamo ancora di sport perché si è svolta ieri pomeriggio la semifinale di Coppa Italia di Serie B di hockey su pista che ha visto protagonista l'amatori hockey Pesaro vincere per 3-2 contro la squadra vicentina del Montecchio Precalcino. Nelle prossime interviste realizzate da Marco Cadeddu i protagonisti ci raccontano di questa importante vittoria. È la squadra che ha più età di tutte quante le altre e quindi cerchiamo di mettere in campo la passione che ci accomuna tutti quanti, la determinazione, cerchiamo di sopperire con l'esperienza e tirandoci, rimboccandoci le mani perché lo sport è anche questo, è una metafora per la vita e quello che è una soddisfazione anche in questo caso qua, ocheistica, lo è anche quando andremo fra poco negli spogliatoi e avremo questo senso di piacere a pagamento dato dal fatto che ci siamo impegnati, ci siamo impegnati, abbiamo dato il meglio, si vede che ho ancora il cuore in gola e questo ci avrebbe reso soddisfatti anche se non avessimo ottenuto il risultato. Noi abbiamo un settore giovanile anche qui a Pesaro che sta adesso prendendo piede, grazie anche al lavoro che fa mio fratello come allenatore anche dei più piccoli e quando loro guardano una partita del genere, quando avranno modo, ho finito questa pandemia di poter venire anche qua a vedere, quello che vorremmo trasmettere è proprio questo, la passione, la determinazione, l'impegno, la dedizione, la coesione e il fatto che si possono raggiungere risultati e soddisfazioni anche a dispetto dell'età. Senza un settore giovanile non andiamo da nessuna parte, i bambini sono il nostro futuro per creare una tradizione che qua di hockey a Pesaro c'era negli anni Ottanta, noi vogliamo cercare di portarla a buoni livelli e sicuramente noi ci divertiamo ancora in pista, corriamo, ma il futuro sono i giovani. Uno degli obiettivi della società, mio e di tutti, è di portare l'hockey a Pesaro perché è uno sport spettacolare, come la città di Pesaro ama gli sport spettacolari come il basket, adesso il calcio a 5, l'hockey a certi livelli e ad alti livelli è spettacolarissimo. Io spero che il Comune ci dia una mano senza magari per fissarsi una data, però prima o poi portare l'hockey e farlo conosce veramente ai pesaresi perché è uno sport che merita. E questa era davvero l'ultima notizia per il nostro telegiornale, vi ricordiamo l'appuntamento con la prima serata di Rossini TV che questa sera, come tutti lunedì alle 21.15, vi mostrerà una nuova puntata di Palcoscenico Marche in cui verrà raccontata Villa Caprile che si trova proprio a Pesaro. Questa sera quindi l'appuntamento con Palcoscenico Marche dalle 21.15. L'informazione torna poi puntuale domani mattina su Rossini TV alle 7.20 in diretta con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini. Grazie per aver seguito anche questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordiamo che per ogni segnalazione potete scriverci, inviare messaggi, foto o video al numero di redazione che vedete comparire qui in sovraimpressione. Grazie ancora per averci seguito con il nostro telegiornale, vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV.